Mancano ancora alcuni collaudi da fare ma il complesso è terminato e entro l'estate partiranno le assegnazioni. Si tratta del progetto di case popolari in via Torre degli Agli nel quartiere di Novoli, probabilmente il più importante complesso realizzato a Firenze negli ultimi vent'anni. Una storia di tempistiche travagliata, iniziata più di dieci anni fa con il trasferimento di alcuni degli abitanti del vecchio palazzo nelle casette di legno in via Leguidoni, che saranno probabilmente spostate e riutilizzate a seconda delle esigenze abitative. Una permanenza che doveva essere temporanea ma che si è allungata per vari motivi. Prima c'è stata la demolizione. Il cantiere vero e proprio del nuovo complesso è iniziato solamente nel novembre 2016 e si è concluso nell'aprile scorso. Altri ritardi sono stati causati dal covid, dalla successiva crisi dei materiali edili, dal super bonus che ha influenzato il mercato dell'edilizia. Casa S.p.a. è però riuscita a portare tutto a termine senza aggiungere risorse pubbliche. Il complesso comprende un totale di 88 alloggi di varie metrature, ognuno composto auto e cantina. L'aspetto del risparmio energetico è all'avanguardia con impianti fotovoltaici innovativi sul tetto integrati sulle facciate. Diamo la dimostrazione che il sistema pubblico può ancora svolgere un'opera fondamentale sul versante casa, sottolinea il presidente di casa S.p.a. Una questione, quella dell'edilizia residenziale pubblica, presente nei programmi di tutti i candidati alle prossime amministrative, ma la cui soluzione è più complessa di uno slogan, soprattutto se mancano le risorse. Voi pensate che ogni singolo anno, ogni singolo mese, settimana, giorno, si sfittano degli alloggi, persone che vengono a mancare, persone che cambiano vita e città e quindi l'alloggio si sfitta. Quando si sfitta è sempre da ristrutturare. La mancanza del finanziamento del fondo dell'articolo 4 legge 80 2014, che il governo Conte 1 ha scelto liberamente, politicamente, di chiudere in modo irresponsabile nel 2019, ha prodotto che avevamo il 4% di alloggi sfitti nel 2019, grazie a quel finanziamento utilizzato per cinque anni, 2014-2019, e a oggi, 2024, abbiamo raggiunto il 9% di alloggi sfitti, non solo a Firenze, ma in tutta Italia, per quanto riguarda le case popolari.